Ciao da Dario di Alternativa Linux. I programmi accessibili dal centro software grafico di qualunque cosiddetta distribuzione GNU Linux per desktop rappresentano solo un punto di partenza. Ecco le modalità più diffuse per distribuire ed installare software in Linux, come scaricarne in sicurezza dal web verificando l'integrità di file scaricati, poi come rimuoverli e come scoprirne di nuovi. Quando ti avvicini a Linux e provi una distribuzione per desktop, il primo modo per esplorare le applicazioni disponibili è il centro software che può assumere vari nomi. Questo fornisce un accesso grafico gradevole a programmi compatibili e verificati per il tuo sistema operativo. Prendendo Linux Mint per un esempio specifico, così vi vedi in anteprima anche Linux Mint 20.3, il modo più sicuro e rapido per installare nuovi programmi è partire dal gestore applicazioni che trovi nel menu sotto la categoria amministrazione o digitandolo nella casella di ricerca del menu stesso. Le applicazioni installabili sono suddivise per tipologia e ordinate per popolarità, numero di recensioni e voti assegnati dagli utenti di tutto il mondo. Quando cominci a cercare nel centro software della tua distribuzione GNU Linux, se scopri doppioni dello stesso programma è perché puoi installarlo come flatpack oltre che nella versione ufficiale, testata ma forse più datata prevista nei tuoi repository. Il flatpack è una modalità di distribuzione di software che consente agli sviluppatori di mettere a disposizione dei propri utenti versioni aggiornate dei programmi senza rischio di conflitti nel sistema ospite. Il file è molto più pesante perché integra in effetti una parte del sistema operativo per ogni singolo programma. Un programma relativamente leggero può richiedere lo scaricamento di un gigabyte e più di dati e richiederne anche più installato su disco, ma proviene dagli sviluppatori stessi del programma. Se trovi anche più di due copie del solito programma probabilmente hai una distribuzione basata su Ubuntu che integra nativamente anche Snapd, lo store proprietario di Ubuntu. Ma anche se vi troverai flatpack non troverai Snapd in Linux Mint che rende anche complicato installarlo. Se hai connessioni a consumo o spazio limitato su hard disk consiglio di limitare il numero di programmi flatpack. Fai sempre riferimento al sito ufficiale di un progetto software per verificare le migliori possibilità di installarlo e usarlo con la tua distribuzione GNU Linux. Quando poi cominci ad esplorare il web, alla ricerca di programmi per Linux che siano già presenti o meno nei tuoi repository, scopri ulteriori meccanismi di installazione. Talvolta infatti gli sviluppatori di un programma allestiscono un server come un repository, un archivio per installare ed aggiornare componenti di un particolare software integrandoli ai pacchetti della tua distribuzione. Si tratta di repository aggiuntivi, disponibili per molti ma non per tutti i programmi. Altre volte solo per le distribuzioni basate su Ubuntu si parla anche di PPA, cioè Personal Package Archive. In entrambi i casi l'integrazione di programmi da repository aggiuntivi o PPA richiede l'aggiunta alle fonti software ufficiali e fidate di altri archivi. Ne ho parlato a proposito di Wine. L'installazione di un software da PPA aggiuntivo richiede di solito passaggi. Lo scaricamento dal sito ufficiale della chiave crittografica che garantisce l'identità della fonte, l'aggiunta della chiave di autenticazione nel sistema, l'integrazione del nuovo repository, l'aggiornamento degli indici di pacchetti, l'installazione del programma. Ogni progetto indica con chiarezza quali siano i singoli passaggi tecnici da effettuarsi solitamente da terminale, ma in effetti puoi fare tutto o quasi anche in modalità grafica. Apri Origini Software in Linux Mint o comunque si chiami l'utilità grafica per la gestione di repository. Nella colonna Chiavi di autenticazione potrai inserire l'indirizzo web per scaricare o importare, se già scaricato, la chiave di autenticazione. Nella scheda repository aggiuntivi ne aggiungi uno nuovo e incolli l'indirizzo completo nella forma che ti viene suggerita. Chiusa la finestra gli indici si aggiornano e sei in grado di installare il nuovo programma, da terminale o da gestore pacchetti, lo vediamo tra poco. I passaggi sono più semplici per l'aggiunta di un PPA perché basta un comando per integrarne uno tra le Origini Software e anche in questo caso puoi intervenire da Origini Software nella scheda PPA. Dopo l'aggiornamento degli indici di pacchetti puoi installarlo immediatamente. Le differenze tra repository e PPA sono solo tecniche. I PPA sono repository speciali perché essi consentono a programmatori di distribuire e aggiornare programmi anche senza disporre di un proprio server, ma appoggiandosi ai servizi ospitati sui server Launchpad. Una chiave criptografica da scaricare consente di identificare l'archivio del programma in modo sicuro per autorizzarlo all'installazione e al rilascio di aggiornamenti. I programmi che ricorrono a questo sistema indicano spesso alcune righe di comandi da lanciare uno alla volta nell'ordine indicato tramite una finestra di terminale. Si può aprirne una in Linux Mint con la combinazione di tasti CTRL, ALT e T, piuttosto che con la tipica icona nera con il simbolo del dollar. Nella documentazione relativa all'installazione di software in ambiente GNU Linux trovi sempre comandi da impartire in una finestra di terminale. Il comando di installazione potrà assumere forma in parte differente a seconda del meccanismo della tua distribuzione. Ognuno dei comandi è preceduto dalla parola sudo, sta per Substitute UserDo, esegui con sostituzione utente. Essa è necessaria per svolgere operazioni che richiedono privilegi di amministratore di sistema. Per motivi di sicurezza, per impostazione predefinita, il proprio utente non li ha. I comandi apt-get o l'abbreviazione in apt sono tipici delle distribuzioni derivate da Debian e sono un segno caratteristico del sistema di installazione di queste rispetto a quelli di altri rami di distribuzioni Linux. Per lo più il centro software e i comandi testuali svolgono funzioni simili. Però il centro software consente di evitare, specie all'inizio, l'uso della riga di comando. I programmi installati sono comunque quelli nei repository collegati alla tua distribuzione. Installare programmi da repository, PPA o in flatpack richiederebbe comandi differenti da terminali, mentre il centro software ti consente di non preoccuparti di questo aspetto. Le utilità da rega di comando, come apt e apt-get, ormai per impostazione predefinita installano anche le cosiddette dipendenze del programma, i file presenti nei repository necessari al funzionamento del programma stesso. Anche il centro software si occupa di verificare e presentarti ulteriori pacchetti richiesti quando installi un programma. L'utilità della rega di comando viene fuori più con la disinstallazione, perché sono previste opzioni che la disinstallazione da centro software o direttamente dal menu programmi non sempre consentono. Se hai già un po' di dimestichezza con l'ambiente Linux per desktop e usi una distribuzione basata su Debian come Linux Mint o Ubuntu, ti consiglio di non sottovalutare il gestore di pacchetti Synaptic. Direi che rappresenta un sistema alternativo di gestione e installazione a metà strada tra la semplicità d'uso del centro grafico e l'efficienza pura e snella della riga di comando. Synaptic non sarà gradevole alla vista quanto il centro software di derivate Debian e Ubuntu, ma è assai ben organizzato e veloce e consente di compiere tantissime operazioni anche di manutenzione e amministrazione che gli altri non permettono. Se non è preinstallato nella tua distribuzione su base Debian, puoi cercare Synaptic nel tuo centro software o digitare sudo apt install synaptic in una finestra di terminale. Gestore pacchetti offre l'elenco completo dei pacchetti presenti nei repositori registrati. Distingue ovviamente quelli installati da quelli installabili, reperisce informazioni sui singoli pacchetti, sulla versione, sulle dipendenze, scarica e visualizza schermate per i programmi dotati di interfaccia grafica che le prevedano. Synaptic, oltre ad integrare un potente motore di ricerca, permette anche di sfogliare le varie sezioni di pacchetti dei repositori. Questi si impostano dal menu su Impostazioni Repositori. Gestore pacchetti tramite una interfaccia grafica semplifica molte operazioni normalmente associate a riga di comando con apt. Puoi fare ricerche negli indici come faresti con apt-search, segnare pacchetti per l'installazione. Dalla selezione di pacchetti puoi creare un file di testo per poterli successivamente importare ed installare in un istante su un'altra installazione. Oppure ovviamente puoi applicare il comando di installazione effettiva di tutti i pacchetti e dipendenze marcati. Synaptic si occupa infatti anche di segnalare e installare le dipendenze raccomandate e o consigliate per ognuno dei programmi selezionati. L'aspetto certamente più interessante di Synaptic è quello relativo alla possibilità di verificare conflitti o errori di dipendenze che possono essere risolti automaticamente. Mantiene inoltre una cronologia delle azioni di installazione, rimozione, reinstallazione di pacchetti e relative dipendenze e rende così semplicissimo anche isolare rapidamente la causa di un eventuale problema insorto dopo un aggiornamento. Gestore pacchetti integra una guida rapida in inglese con la descrizione delle principali funzioni, associate a schermate esplicative. Rappresenta certamente un ottimo modo per comprendere al meglio i meccanismi di gestione e ispezione dei repository e di installazione per gli ambienti basati su Debian, APT e DPKG. Molti programmi open source e anche molti programmi proprietari non presenti nei repository ufficiali della tua versione di Linux sono distribuiti ed installabili in altro modo rispetto alle modalità già presentate. I responsabili di un progetto distribuiscono talvolta un solo file che contiene tutto il necessario per avviare con un doppio clic l'estrazione dei contenuti e l'installazione. Ma quando ti avventuri oltre i software disponibili nei tuoi repository o tramite Flatpack, ricorda che apri il tuo sistema a notevoli implicazioni di sicurezza. È indispensabile sempre conoscere e ritenere affidabile il programma e chi lo sviluppa, perché spesso i file non sono più in chiaro e non puoi davvero sapere cosa facciano nel tuo sistema. Certo ti fiderai magari a scaricare Google Chrome, Skype, TeamViewer e i driver per stampanti, scanner e ogni tipo di periferiche di marche note. Ma anche in questo caso ricordati di scaricare file solo partendo dalla home page del produttore e non da altri siti, per essere certo della provenienza. Più avanti parlo anche dell'estrema importanza di verificare l'impronta o la firma PGP di programmi scaricati dai relativi siti ufficiali. I formati più frequenti di questi file sono quelli DEB per tutti gli ambienti Debian e derivati e quelli RPM tipici dei sistemi che integrano il meccanismo di Red Hat come Fedora, OpenSUSE ed altri. Si tratta di pacchetti software precompilati dal codice sorgente, pronti per l'installazione e l'utilizzo. Il file DEB comprende anche eventuali dipendenze. Qualora qualche pacchetto sia già installato o in una versione più recente non verranno creati conflitti. I file .run di solito appartengono a programmi proprietari e sono codificati in codice binario. Niente codice sorgente, ma solo 0 e 1, interpretabili solo dalla macchina. Non puoi davvero sapere cosa stiano facendo. Spesso, anche senza avvertire l'utente, e non è un bene malgrado la valida ragione, l'installazione da pacchetti DEB e RPM comporta l'aggiunta tra le fonti affidabili del sistema, tra i repository aggiuntivi, di quelli specifici del progetto. E questo consente comunque di riceverne aggiornamenti ogni qualvolta il produttore ne rilasci. Per distribuire programmi aggiornati senza conflitti con le dipendenze si sta affermando anche un nuovo tipo di contenitore per eseguire un programma senza realmente installarlo. È il formato AppImage, un archivio compresso che include tutti i file necessari in versioni spesso più recenti di quelle testate e disponibili per il proprio sistema operativo. I file AppImage non richiedono l'estrazione e anzi consentono di usare il medesimo programma in versioni differenti da quella eventualmente installata o anche di usare versioni differenti dello stesso programma in formato AppImage, senza compromettere l'installazione del sistema operativo. È bene accertare che un file AppImage provenga da una fonte attendibile prima di eseguirlo e anche verificare che il file scaricato dal sito ufficiale del programma corrisponda all'impronta fornita. Ne parlo oltre, anche perché è comunque richiesta una specifica operazione dell'utente per autorizzarne l'esecuzione. E si può farlo cliccando con il pulsante destro sul file e selezionando Proprietà dal menu contestuale. Di qui, nella scheda Permessi, si deve mettere il segno di spunta su consentire l'esecuzione del file come programma. Da quel momento in poi sarà sufficiente fare doppio clic sul file per avviare il programma stesso. Ultimo, ma in realtà primo perché è il modo da sempre più diffuso per una installazione su misura per il proprio computer è quella di installare un programma compilandolo dal codice sorgente. Con il codice sorgente devi fare tutto da solo, costruire il software e installare dipendenze. Quando scarichi codice sorgente trovi spesso archivi zip o tar. Questa modalità è teoricamente la migliore. Mentre i programmi precompilati devono potersi adattare a computer con differenti configurazioni hardware, la compilazione dal sorgente consente di realizzare un binario o blob ritagliato su misura per quel computer. Fortunatamente un principiante oggi solo in rari casi dovrà ricorrere alla compilazione dal sorgente e in questi casi il produttore del programma non mancherà certo di fornire chiare indicazioni sui passaggi da compiere e dei comandi da impartire per la compilazione tramite una finestra di terminale. Aspetto fondamentale per la sicurezza dell'intero sistema operativo, cui ho già accennato, è legato alla sicurezza di ciò che si scarica dal web. Anzitutto scegli solo fonti che consideri affidabili, tra cui ci sono certamente i maggiori produttori di hardware e software per Linux oltre che per Windows, ma ciò premesso è anche fondamentale scaricare i file di installazione di sistemi operativi GNU Linux e programmi solo dai rispettivi siti web ufficiali e non da altri. Il primo passo è verificare l'integrità del file scaricato. Quasi sempre viene fornita una cosiddetta impronta SHA256 in un file di testo, di solito accanto al pulsante di download. Ed è spesso indicato il comando SHA256SAM-B per la verifica. Ma puoi anche controllare con l'utilità grafica GTKHash la corrispondenza. Per essere davvero sicuro di ciò che hai scaricato, molti progetti software ti forniscono informazioni firmate digitalmente per provarti l'autenticità del file scaricato oltre che la sua integrità. L'operazione può risultare complessa e le procedure adottate dai produttori di software talvolta differiscono. Non c'è altro modo per farlo che seguire le indicazioni che trovi di volta in volta. Le fasi possono comunque essere ricondotte alle seguenti. Scarichi la chiave pubblica, di solito in un file .asc dell'autore del software. Controlli l'impronta della chiave pubblica per assicurare che sia quella corretta. Importi la chiave pubblica corretta nel tuo portachiavi GPG. Scarichi la firma, di solito in file .sig del software. Usi la chiave pubblica dell'autore per verificare la firma PGP. Se la firma risulta corretta il software è originale e non è stato manomesso. Spesso i primi due passaggi possono essere saltati perché l'autore del software ti indica un solo comando per scaricare dal server ufficiale e inserire automaticamente la chiave pubblica nel portachiavi. Oppure ad esempio per verificare il file ISO di installazione di Linux Mint, i passaggi sono differenti. Scaricare il file SHA256SAM.txt e quello firmato .gpg. Importare la chiave pubblica di firma proveniente dal team con un comando dal terminale. Verificare la rispondenza dell'impronta del file tra il file .txt e quello .gpg. Solo all'esito di questi controlli di corrispondenza puoi essere sicuro che il file che è scaricato è integro, che proviene effettivamente da chi l'ha realizzato e che non ha subito alcuna manomissione durante il tuo scaricamento. Un programma che gli utenti di distribuzioni legate in qualche modo a nomi come Ubuntu o Linux Mint possono trovare utile GPA, ovvero GNU Privacy Assistant, che consente una gestione grafica dei procedimenti regati alla chiave asimmetriche PGP e per la verifica di file. Per evitare problemi di configurazione non è consigliabile disinstallare un programma predefinito previsto dall'installazione. Questo può anche causare problemi nell'eventuale reinstallazione o per successivi aggiornamenti, ma puoi disinstallare in tranquillità quelli che hai installato tu. Ed il meccanismo è il medesimo per i programmi installati da gestore applicazioni, per quelli scaricati in formato DEB e per quelli installati dopo l'aggiunta di un PPA. Apri il menu di Linux Mint e trova l'icona del programma che vuoi rimuovere. Cliccaci sopra con il pulsante destro del mouse. Si apre un menu a tendina tra cui dovresti poter selezionare Disinstalla. È richiesta l'indicazione della password. È il modo più semplice, rapido e adatto alla maggior parte degli utenti. Per maggiore pulizia, nei casi di programmi installati da pacchetti DEB si dovrà anche verificare, nelle origini software, cercando nel menu di Mint o isolandolo nella categoria Amministrazione, che il programma disinstallato non abbia anche aggiunto i propri archivi tra i repositori aggiuntivi. In tal caso il repository potrà essere eliminato. Anche nel caso di programmi che abbiano richiesto l'aggiunta di un PPA per l'installazione, si potrà fare pulizia eliminando il PPA dopo la disinstallazione. Anche in questo caso si interviene dall'utilità Origini Software ma nella scheda PPA. La riga di comando si rende utile quando si tratta di disinstallare programmi. Se li disinstalli cercandoli circolarmente nel menu Programmi o rimuovendoli dal centro software, rimuovi in effetti solo il programma ma non anche i file di configurazione. In questo modo se reinstalli il programma non devi riconfigurarlo da capo. Ma se hai problemi con un programma che non funziona più a dovere, il terminale ti consente di rimuovere tutti i file di configurazione con il comando nella forma sudo apt purge nome programma. Nota però che i file di preferenze personali eventualmente salvati all'interno della tua cartella home nella cartella nascosta .config all'interno della tua home non vengono rimossi. Se hai necessità di farlo prova a identificare cartelle e file contenenti il nome del programma nella visualizzazione dei file nascosti con il file manager. Lo trovi nel menu di molti file manager tra cui Nemo in Linux Mint Cinnamon sotto Visualizza mostra file nascosti. I programmi eseguiti tramite file app image non vengono realmente installati nel sistema e non è quindi necessaria alcuna disinstallazione. Il file può essere semplicemente eliminato. Esistono però casi in cui l'esecuzione del programma crea cartelle e file di configurazione che sono solitamente mantenuti nel sistema pur senza alcuna conseguenza negativa. Nella maggior parte dei casi la quasi totalità dei file dovrebbe essere reperibile tra quelli nascosti all'interno della propria cartella home o in quella .config all'interno di home. Se mi chiedi come scoprire nuovi programmi da installare in sicurezza al di fuori del tuo centro software Linux posso indicarti la pagina in italiano delle applicazioni KDE e altri collegamenti interessanti di siti stranieri che metto nella descrizione. Anche una ricerca web specie in inglese per categoria di interessi è un modo valido per scoprire nuovi programmi. Infine in italiano segnalerei il mio ebook un pinguino sulla scrivania perché include un elenco da me realizzato di circa 160 programmi per Linux dotati di interfaccia grafica suddivisi in oltre 25 categorie e corredati di brevi descrizioni e link ai siti ufficiali che non ho ancora pubblicato altrove. Metto il link alla pagina del testo nella descrizione per trovare l'indice e le piattaforme in cui trovarlo. Anche solo segnalarlo a qualcuno è una forma di supporto gradito. Grazie anche per il tuo interessamento a questo video e ricorda youtube.com slash c slash alternativa linux e alternativa linux.it perché ci trovi già tanto su questi argomenti e Linux Mint in particolare. A presto, ciao! Grazie a tutti!